Salve, mi trovo nei boschi bellissimi del Casentino, sono il lupo della Sila, sono nato a Vergino, provincia di Crotone, sono veramente il lupo della Sila. Qui questo spettacolo di bosco con questo stupendo, guardate che castagno è questo, bellissimo, qui si trovano dei funghi stupendi, meravigliosi, come potete constatare guardate un attimino, io vi faccio vedere, ho un tronco di questo albero in terra, ci sono due esemplari, guardate, uno, guardate che spettacolo, uno e due, uno più piccolo, uno spettacolo meraviglioso, qui la natura è bellissima, qui c'è uno stupendo e meraviglioso bosco, che io adoro, questa è la mia vita, il bosco, bellissimo, vi ringrazio per ora, ciao da il lupo della Sila, ciao, a presto.